Ciao ragazzi, prima di cominciare questo video dico tre cose. La prima, sì, oggi esce la carriera alle 18 ragazzi, così non mi lasciate commenti con scritto ma la carriera. Seconda cosa importante ragazzi, in descrizione trovate il link di Fuse dove potete trovare appunto la prima parte di questo video. E terza cosa ragazzi per i finti moralisti, questo è un video a cui poi hanno partecipato alcune persone che erano consci di finire su un video appunto su un canale YouTube. Nessuno è stato costretto a fare niente, ci siamo divertiti noi, ci sono divertiti loro, quindi evitiamo commenti che non c'entrano con Ultimate Team e detto ciò, buona visione. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, oggi signori siamo qui con un draft supervega speciale, in realtà è il continuo di questo draft speciale perché la prima parte l'ho trovato sul canale di Fuse che sta riprendendo dietro. No, prima parte sul suo canale andremo a fare il draft con i bucun per la signori, bene direi che possiamo partire. Ciao scusa, vuoi fare un gioco con noi? Devi solo dire un numero da 1 a 5, quando io clicco qua vengono a fare 5 giocatori, tu non li devi guardare, mi devi dire un numero da 1 a 5, poi te lo faccio vedere. Dai, 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 proviamo. Facciamo vedere. Ok. Sono usciti dei buoni giocatori eh, anche questo però fa intesa. Ok, allora due ci sarebbero, ok? Ci serve un numero da 1 a 5. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. 5? 5? Ah, hai preso lui guarda. Devi dire, mocca a mamma da quando è così. Potevi scegliere questi, poi se gli dicevi 1 ti dava questo, 2 è quello, hai scelto 5 e quindi è quello lì. Adesso ne apriamo un altro. Ok. Vediamo un attimo, un secondo sostituto. Andiamo a muovere, va avanti, va avanti, va avanti, va avanti. Niente, lo fa fermo. Schifo, schifo questo. Schifiamo, questo lo schifiamo perché fa schifo. Questo? Ok, vai. Ok, già questo. Oh, lui fa intesa con il tuo di prima, hai trovato che hai trovato il link? Sì. Vai. Numero da 1 a 5? 5, sempre 5. Ancora 5. Ah, glitch. Glitch, peccato. Grazie, se erano scorsi, ero in serie A, facemi intesa quest'anno. Peccato, signore. Non fa, non fa, non fa nucazza. Ok, dai, l'ultima, non gli riesci. Oh, beh, qui è colorato. Qui di buono non c'è... Vabbè. Un numero da 1 a 5. Un altro, un altro. Uno. Uno. Feguli. Grande. Hai scelto Feguli. Questo è il tuo amico. Grande. Grazie. Ciao. Ciao, va bene. Grazie mille. Ragazzi, sì. Un'altra volta. No, il telefono. Madonna. È incredibile. Quello là, quello là non sta più al telefono. Ma non, non. Fa un gullo, basta. Non voglio far più questo video, è non me. Cambiamento di zona. Ce l'abbiamo, signori. Siamo a Milano adesso. Andate. È frescamente incredibile. Diamo sempre venite a Milano. Dobbiamo solo correre un po'. C'è lì. Il telefono. Non fa niente. Non è più al telefono. Ora 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 ora. Mi sembra che dobbiamo placarla, aspetta. Ma che cazzo fai? Scusa, posso chiedere una cosa. Stiamo facendo un gioco. Come? Stiamo facendo un gioco. Che gioco? Un gioco dove devi scegliere, questo non li puoi guardare, ma devi scegliere, sono dei giocatori di calcio. Mi devi dire il numero da 1 a 5. Di numero? Da 1 a 5. Cioè 1, 2, 3, 4 o 5. Va bene? 3. Ok, il primo 3 che era? Miralem. Ok, era Pjanic. Pjanic. Perché prima il signore non ce l'avate trovato. È buono comunque. Li sai un po' ai giocatori di calcio? Sì, io con lui sono bene. Come è Pjanic, quella che è andata la Juve? Sì, sì. Pjanic. Juve, la Juve che cos'è? Divi i vinti ali. No, la Juve deve perdere. No, no. Siamo a Napoli qua, la Juve. Sì, d'accordo? Ma è... Voglio, grande. Grande. Le bove. Adesso ci mancano due spazio. Ok, fa vedere prima qua. Prima li faccio vedere lui. Tu non puoi guardare. Ok. Dovrebbe scegliere quello là, ok? Eh, esatto, questo. Vai, numero 1 a 5. Due. Oh, le guarda, il più forte. Grande Bomber. Manca l'ultimo, aspetta. Andiamo a rubisio perché devi perdere il Pullman. Va, scusa. Non si può perdere il Pullman. Allora, intanto apriamo l'ultima posizione, non puoi guardare. Ok. Chi buono, chi c'è? Non si vede. Lui. Ok, vai, vai. Un altro là. Quattro. Quattro, hai preso Firmino. Grande bro. Non vieni. Grazie, ciao. E niente, quindi Firmino. E adesso mancano solo le riserve. Possiamo fare un gioco, è su un calcio. E, parlo con lui. Ma te hai la maglia del Milan. No, è la maglia del Milan. Non lo devi farlo, allora. Hai presente il FIFA? Gioca di calcio, playstation. Qui escono i giocatori, ok? Escono a caso. Praticamente io adesso clicco qua. Vengono fuori 5 giocatori a caso. Mi devi dire, un numero a caso da 1 a 5. Numero? 1 o 2 o 3 o 4 o 5. Ok. Ok, adesso prima facciamo vedere i giocatori. Aspetta, si vede. Ok, sì. C'è un giocatore che giocava nel Milan, te lo dico. Sì. Vai, un numero da 1 a 5? Sì. Pensaci bene. 1, 2, 3 o 4 o 5? 5. 5! Eremenko. Eremenko. Hai scelto lui. Giocava nel Milan. Vedi. Certo. C'era De Jong che giocava nel Milan. Invece tu hai scelto Eremenko. Va bene. Adesso mi devi dare un altro numero. Vediamo chi esce. Vabbè, questo salto, salto. Vedere bene. Attenzione. Oh, c'è Marek. E c'è anche lui. Che? Oddio. C'è un giocatore del Napoli. C'è un giocatore del Napoli e c'è uno del Real Madrid che è... C'è uno del Real Madrid, forte. Davvero forte. Un numero da 1 a 5. 2. 2 o Bale? Bale. Hai preso Bale. Hai presente Bale? Hai detto anche Gareth, quindi hai preso il presente per Forte. E allora lo finiamo qui. Lui è troppo fortunato. Aspetta, mancano due. L'altro non c'è. No. Eh, insomma non lo finiamo più. Vai, vai, vai. Gli ultimi due giocatori puoi scegliere. Non si mette, aspetta. Sono tutti giocatori di merda. Diciamo chi sono. Vai, allora, certo. Diciamolo in... C'è Maggio. Ok, Maggio. Maggio, questo e quest'altro. Un altro numero? Quattro. Quattro. Bertrand, vabbè. Questo è l'ultimo che puoi scegliere. Allora, adesso può uscire uno tra Ronaldo, Messi, Ibra o altri. Che in realtà no, però fa lo stesso. Ecco, non sono sceso. Ma questo sarebbe il top. C'è Marty, dai. Vai. L'ultimo numero? Un numero, 7. Eh no, da 1 a 5. 5. 5 è il top. Hai preso il più buone, il top. Ok, quanti like lasciamo? Quanti like? Sì, quanti like lasciamo? Ciao, un sacco, un sacco, un sacco. Un sacco, un mille. Mille, vabbè. Vabbè, dai. Di più. Allora lasciamo solo mille mi piace per questo video. Che ne facciamo un altro. E iscrivetevi al canale di Ovi, iscrivetevi al canale di Pius. Che lui è Fusegamer. Lui è Fusegamer. No, lui. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao. Ciao. Che sono la miniatura. Ciao. 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 Ciao.